sono fausto fagioli vi parlo dalla mia quarantena dalla mia romagna che sono qua anch'io bloccato come voi come quasi tutti per questo devo dire maledetto coronavirus che ci ha un po messo in difficoltà tutti quanti vi parlo dalla mia romagna ma è come fossi da voi è come fossi nei monti dauni perché alla fine quando a volte sono da voi e vi dico mi sento a casa per forza vi faccio vedere vedete com'è la mia romagna guardate tutto sommato esattamente com'è poi da voi quindi il territorio le mie montagne sono come le vostre quindi quando mi trovo e parlo la ruralità è sempre bella la ruralità sempre un patrimonio straordinario che dobbiamo organizzarci bene proprio per organizzarci bene vi vorrei dire organizziamoci per il dopo organizziamoci perché questo coronavirus che ci ha messo in difficoltà ma non arrendiamoci cari amici noi dobbiamo essere bravi proprio in questo momento di difficoltà di organizzarci bene perché il se noi perdiamo la filiera turistica nel mondo rurale guardate che non basta un finanziamento per recuperarla se perdiamo la filiera vuol dire che ci vorranno cinque anni per recuperarla ancora perché sapete quanto è difficile e voi che avete già organizzato avete già preparato tanto avendo già cooperative di comunità lì a biccheri che lavora bene avendo dei bravi amministratori avendo gente in gamba lavoriamo per il dopo è chiaro è chiaro che il dopo non sarà più come quello che avevamo programmato quando parliamo di marketing ragazzi il marketing marketing territoriale il marketing mix è tutt'altra cosa oggi dobbiamo dimenticare quello che abbiamo detto fino a ieri per modificare quando uno arriva nel vostro territorio non è solo che deve essere raccolto bene deve essere fatto quello che avevamo detto prima oggi la carta vincente sta nella fiducia nella sicurezza io mi siedo a un ristorante non è più che mi interessa solo il menu io voglio sapere e avere la sicurezza che le stoviglie siano lavate e disinfettate che le posate siano state scenificate ora vedete il linguaggio è diverso siamo passati da un concetto che prima bastava una cosa bella organizzata bene oggi invece la tutto è sulla fiducia il vero lusso del domani sarà la fiducia e monti dauni che avete una forza notevole proprio per per vendere questo fiducia questo patrimonio che avete dobbiamo essere bravi per organizzarci abbiamo però ritengo anche una piccola fortuna che oggi il mercato e dobbiamo organizzarci bene per quello domestico ci sarà tutto mercato nazionale voglio dire il mercato straniero non l'avremo almeno per il 2020 e forse anche per il 2021 una parte ecco però però siamo una nazione da 60 milioni di abitanti e non è che siamo una piccola realtà 60 milioni siamo in tanti eh e anno scorso questi sono i dati ufficiali anno scorso per tutto quello che riguarda il turismo eh che l'italia è andata in giro per il mondo sapete che in abgo noi quanto spendiamo quanto abbiamo speso nel 2019 la bellezza di 10 miliardi se abbiamo speso 10 miliardi per fare eh vacanze all'estero quei 2020 non andranno più all'estero quindi sarà un mercato nazionale ecco che l'opportunità per organizzare qualcosa va organizzata adesso va preparata adesso quindi amministratori imprenditori eh manager eh stakeholder del turismo organizziamoci tutti adesso in questo periodo perché eh la fine del coronavirus deve essere che noi saremo più forti di prima e il mondo rurale avrà una carta da giocarci importante perché noi abbiamo gli spazi non credo che si possa mettere la stessa gente a Venezia o a Firenze come era prima invece il mondo rurale c'ha la possibilità di avere quella gli spazi di sicurezza che non tutti i territori possono dare il mondo rurale è una carta vincente per il futuro